L'Avellino è tornato in campo per preparare la sfida di Colleferro dove affronterà la vis artena di mister Francesco Puzzi. I biancoverdi, agli ordini di mister Bucaro, si sono ritrovati sul sintetico di via Zoccolari dove hanno sostenuto il loro classico allenamento di inizio settimana diviso in tre fasi. Nella prima, ovviamente, c'è stato un lavoro fisico sotto lo sguardo del preparatore atletico la porta nella seconda e terza fase. I calciatori hanno lavorato con la palla, terminando poi con una classica partitella a campo ridotto. Non giungono ancora. Buone notizie dall'infermeria restano fermi ai box sia Tommaso Carbonelli che Alessio Rizzo. I due under con difficoltà stanno cercando di smaltire i rispettivi acciacchi e molto probabilmente non faranno parte della partita contro la vis artena. Partita che lo staff dirigenziale dell'Avellino aveva chiesto di anticipare di 24 ore ma che, per problemi logistici legati all'utilizzo del caslini da parte di diverse squadre, tra giovanili e compagini laziali di eccellenza, non verrà spostata anche se la volontà di entrambi i club andava verso questa soluzione. Dunque, per i bianco-verdi non resta che continuare a lavorare con calma e concentrazione per affrontare nel miglior modo possibile non solo la sfida esterna ma anche il recupero contro l'Aprilia in programma tre giorni dopo al Partenio Lombardi.